Vi racconto il mio design. Progetto osservando, parto da sensazioni. È la funzione che dà valore il design. Ciao a tutti, sono Odica Roccadadria, designer marchigiano. Collaboro da diversi anni con aziende italiane nel settore dell'arredamento interior e design. Baso ogni stile e natura del dettaglio nella ricerca dei materiali. Traggo ispirazione dalla natura. Mi piace osservarla con ogni sua forma e ispirazione. Nel 2014, a 24 anni, fondo a Pesaro lo studio Roccadadria design. Comincio così l'attività professionale disegnando specchi, maglie, lampade, complementi d'arredo ed altri prodotti che definiscono la mia cifra stilistica. Mi distingo per uno spiccato senso artistico. Osservo il mondo circostante, recupero evocazioni di altri tempi, come ricordi di infanzia, in un continuo dialogo tra forma e funzione. Collaboro con importanti aziende italiane nel settore dell'arredamento interior e design. Baso il mio stile nella cura del dettaglio e nella ricerca dei materiali. Vivo e lavoro a Pesaro, polo industriale dell'arredamento, patria della produzione di materiali e componenti di arredo. È proprio qui che ho potuto maturare una grande esperienza e un forte legame con i diversi materiali che compongono un prodotto. Uno dei prodotti che più mi rappresenta è Melody, la maglia disegnata per cantori. Un'idea di tridimensionalità, il desiderio di imprimere su di un piano la sfera, uno dei solidi che ritengo più affascinanti. Carnaby, maglia disegnata per Catalan Italia. Concepita in un giorno di pioggia, quando le gocce d'acqua scivolano sul vetro, nasce la voglia di poterle imprimere su di esso. Aliso, collezione di tavolini disegnati per borzalino. Metallo curvato, scrigno e rifugio. Secret, scrittoio disegnato per buon tempi. Il design anni 70 incontra nuove tecnologie. Ho deciso di nascondere un cassetto nel piano dello scrittoio, che si può aprire e usare come supporto per lo specchio. Lo scrittoio Secret funge così anche da beauty, per adattarsi ai diversi ambienti di vita e di lavoro di oggi. Ecco alcuni dei miei prodotti. Slice di raccoglio